Ma chi è? Chi è voi? Ah Massimo, grazie! Sono salutatore! Salutatore? A casa mia! A casa di Massimo Ceccherini! Scruppe! Grandissimo scruppe! Sì, ma scusate, tocchiuti la porta! Scusiamo! Ma io vai! Grandissimo scruppe, da tanto che ti cercavano... Ma che scruppe? Io sono in clinica, mi ricercivo che ti cercavano! Eh, lo so, lo so, però dove ti trovavo? In clinica! Una sorpresa per tutti i tuoi fans, eccolo qui per voi! Ah, per i miei fans! Per i tuoi! Saluto l'Equitalia a tutti i miei fans! YouTube, Facebook, YouTube... Saluto l'Equitalia a tutti i miei fans, lo stavo mangiando, per favore, vai! Salutiamo! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Vai, 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 vai! Arrivederci i salutatori! Oh, non so solo io quello malato!